Leo! Leo, ci sei? Come minchia sei entrato? Fuori di qui o ti infilo il perro su quel culo? Sono io, Vito! Vito, e tu che minchia ci fai qui? Leo, non c'è tempo per parlare, devi andartere in fretta, vogliono farti fuori! Cosa? Vieni di sopra, Vito, ho freddo ai piedi, vuoi bere qualcosa? Se voglio da bere... Ma che cazzo hai nella testa? Allora, raccontami. Falcone ti vuole morto, sta già arrivando qualcuno, devi andartere! Che? E perché mi vuole morto? Ho sentito che Vinci sta pensando di attaccarlo perché Clemente ha mentito, ha detto che faceva affari con la droga. Mentito. Vito, Carlo Falcone fa affari con la droga, lo sanno tutti. Clemente ha cercato di prendersi la sua fetta e Falcone se n'è liberato. Ora vuole liberarsi anche di noi prima che ci muoviamo contro di lui. E tu come minchia lo sai? Ho le mie fonti. E tu perché sei qui? Perché? Ma te stai rincoglionendo perché vogliono ucciderti, parla morti, Dio smettile di parlare vestiti e andiamocene! Liberiamoci di quelli che Carlo ha mandato a uccidermi. Siamo in vantaggio, no? Non sanno che li stiamo aspettando. Non posso, lo conosco. In realtà sono quello che gli ha trovato in volo. Hai ingaggiato un tuo amico per ammazzarmi? No, non proprio. Senti, non ho tempo di spiegare. Sarà qui da un momento all'altro. Ok, aspetta qui. Mi vesto. Troppo tardi. Sono qui. Oh, merda. Harry non deve vederli. Nascondiamoci prima che venga su. Potremmo scendere nel cortile da Retro, ma ci serve qualcosa per calarci. Ragazzo, prendi le lenzuola dalla lavanderia. Avanti, Vito. L'hai detto tu che non abbiamo molto tempo. Vito, ma che ci fai tu qui? Va bene, tranquillo, Harry. Metti via la pistola e manda via i ragazzi. Vi spiegherò tutto. Ragazzi, aspettatemi fuori. Se non esco tra qualche minuto, venite a cercarmi. Sedetevi. Ma che sta succedendo qui? Harry, Leo è un amico mio. In prigione, mi ha praticamente salvato la vita. E mi ha accolto in famiglia. Non sapevo che Eddie voleva mettere una taglia su di lui. Dovevo avvisarlo. Sì, ho capito, ma io non posso mandare tutto a puttane. Se lascio andare Leo, Falcone penserà che l'ho fatto apposta e mi farà uccidere. Pizzione, Harry, sono tuo amico! Io per te lo farei, io lo sai! Questo non ha a che fare con l'amicizia, Vito. Sono affari e se faccio cazzate sono finito. Non posso lasciarlo andare. Ho accettato il lavoro e devo finirlo. Se non vuoi guardare, puoi andare via. E non preoccuparti, non dirò niente a nessuno. Ascolta, Leo mi ha detto che sta succedendo tutto perché Falcone vende droga. Sta violando le regole e vuole far fuori quelli che lo sanno. E allora? Gli unici che non infrangono quelle regole sono Frank Vinci e Leo, qui. E non sono loro quelli che mi pagano. Vito, grazie di tutto. Ma ora lasciaci. Ho avuto una vita lunga e bella. Non ha alcun senso rischiare il collo per regalare un vecchio qualche anno in me. No, Leo! Ci deve essere un altro modo! Vito... Mi dispiace, Vito. Non dirò a nessuno che eri qui. Quando esci cerca di non farti vedere. Non dirò a nessuno che ero. Mi devi un grosso favore. Cosa? Ehi, ragazzo! Leo! Vuoi da bere? Che è successo? Ho fatto un patto col tuo amico. Sparisco. Non c'è più niente per me in questa città da quando mia moglie è morta. E avevo comunque pensato di ritirarmi in un bel posto caldo. Non c'è più niente per me in questa città di chiunque.